Chiamai subito alle forze dell'ordine dicendo che probabilmente di fronte a me c'era seduta Denise, così felice greco a Morning News ricorda il 18 ottobre 2004. Quando a Milano, all'esterno della banca dove lavorava come guardia giurata, vede una bambina somigliante a Denise Pipitone insieme a un gruppo di nomadi. Tentai di trattenere il gruppo ma se ne resero conto andarono via, io non ero sicuro. Ricorda greco che quella bambina fosse Denise e chiesi autorizzazione alle forze dell'ordine di fermarla, ma mi fu negata. Sono passati quasi 17 anni dal giorno dell'avvistamento a Milano e felice greco confida Canale 5 di avere molti rimorsi rispetto a come sono andate le cose. Avrei potuto agire di testa mia ma poi avrei dovuto affrontare tutte le conseguenze conclude.